è un giorno ti accorgi che non riesci più a leggere la tua scrittura perché è diventata troppo piccola anche per te e poi i piedi i piedi te li senti come incollati al pavimento come se una forza oscura li attirasse inesorabilmente verso il basso e poi ti senti tremare dentro e tremi 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 sempre di più al mattino quando ti svegli prima ancora di aprire gli occhi tremi e poi ti prende l'angoscia l'angoscia di non capire di non essere creduto e poi e poi quando ti dicono che hai ragione tu non sai se ti senti più sollevato o disperato poi un giorno per caso leggi qualcosa che ti colpisce al cuore parole che come un lampo all'improvviso illuminano la tua anima Parkinson vinco io sì vinco io grazie grazie